5 bei film ansiolitici che nessuno consiglia mai da vedere su Amazon Prime Video. Ciao, sono Valerio Novara. In video di oggi cercherò di consigliarvi 5 titoli di film thriller, di genere thriller, che mettono ansia e che ci hanno molto colpito su ciacchi e azione, che abbiamo deciso di consigliarvi se vi state chiedendo cosa guardare stasera. Ecco, 5 bei film che, insomma, vi terranno incollati allo schermo fino all'ultimo minuto. Quindi prendete spunto, abbiamo cercato di mettere insieme 5 titoli che esplorano le paure più recondite dell'animo umano e ce n'è davvero per tutti i gusti. Ma iniziamo col primo. Partiamo da Frozen, un film del 2010 che trovate su Amazon Prime Video. Parla di una tranquilla gita, di quella che doveva essere una tranquilla gita domenicale sulla neve di tre studenti universitari. Qual è la paura più recondita delle persone quando si va a sciare, in particolare quando si prendono la seggiovia, la funivia? Che la seggiovia o la funivia si rompano oppure che si rimanga lì, fermi. E in questo caso il film parla proprio di questo. Non vi spoilerò altro, anche perché è un turbinio di ansia e di sopravvivenza. Sono dei survival movie, anche perché abbiamo di fronte tre persone che rimangono su questa seggiovia dopo che l'impianto viene spento e insomma saranno costretti a scendere o comunque a sopravvivere al buio, al freddo e durante la notte. Frozen su Amazon Prime Video, super consigliato. Il secondo film che vi consiglio oggi si intitola Alla deriva ed è il secondo di una trilogia che si intitola in inglese Open Water, quindi questo è Open Water 2. E praticamente è il primo film che mi ha introdotto, se vogliamo, a questo genere thriller ansiolitico, ansioso, insomma, a questi survival movie che mi stanno piacendo tantissimo. Lo trovate su Amazon Prime Video, parla di un gruppo di ragazzi che si ritrova su una barca a vela per fare una gita su questa grande barca a vela. Il problema è che si dimenticano di mettere giù, di tirare giù la scaletta quando tutti vanno a fare il bagno e non riescono a risalire sulla barca, quindi in pieno mare aperto dovranno affrontare tutte le difficoltà del caso. con un bimbo neonato che invece è rimasto sopra la barca e la mamma, insomma, era stata fatta tuffare in acqua con questo bimbo che piange, quindi vi immagino l'ansia che sale e chissà, insomma, se tutti riusciranno a sopravvivere. È il secondo, ci sono anche Open Water e Open Water 3, ma a mio avviso in questo caso il secondo è il migliore di questa trilogia. Il terzo film che vi consiglio oggi è Centigrade, Centigrade, Centigrade in italiano, Centigrade letterale, anche perché la mia pronuncia dell'inglese ormai la conoscete ed è famosa in tutto il web. È un film sempre su Amazon Prime Video, torniamo al freddo e al gelo, parla di una coppia con lei in dolce attesa che in macchina, sta facendo un viaggio in macchina, a un certo punto c'è una tormenta di neve, sono costretti i due ad accostare con la macchina e a trascorrere tutta la notte prima che passi la tormenta, anche perché non si vede davvero nulla, salvo poi accorgersi la mattina dopo che l'auto è completamente ricoperta di neve e non si aprono più negli sportelli e né si vede nulla dai finestrini perché la neve ha totalmente ricoperto la macchina. È un film che vi metterà molta ansia anche perché c'è questa donna che ha il pancione e che le manca pochissimo al parto e con il padre che dovrà fare di tutto per dare sostentamento fisico e morale alla propria compagna. Anche qui Amazon Prime Video super consigliato. Quarto film che vi consiglio oggi si intitola Extortion, è anch'esso su Amazon Prime Video ed esplora la paura che si ha quando si va in vacanza di essere rapiti o rimanere bloccati su un'isola. Avete presente quando per esempio in Egitto, ma anche in altre mete turistiche, vi dicono di fare le gite con la gente del posto perché quelle col villaggio costano troppo? Ecco, avete già capito tutto, avete già capito il film dove vuole andare a parare, ambientato ai caraibi, questa famiglia con lui fa il medio, fa coltosa, va in vacanza e quindi scelgono di fare una gita di mezza giornata con dei ragazzi del posto, ma si ritroveranno invischiati in una brutta faccenda e dovranno fare di tutto per tornare a casa e avere salva la pelle. Super consigliato, Extortion, è molto più recente rispetto agli altri film che vi ho consigliato e lo trovate come al solito su Amazon Prime Video. Chiudiamo la nostra carrellata di titoli ansiolitici con un film di ottobre 2022, è uscito al cinema a ottobre, quindi non lo trovate gratis o perlomeno si può noleggiare su Amazon Prime Video e anche su Cili a 3,99€ se non sbaglio. Si intitola Fall e parla di due amiche appassionate di arrampicata che vanno nel deserto per scalare una lunghissima torre radio, una vecchia torre radio tutta arrugginita. Lassù, quando saranno lassù, come potete immaginare succederà di tutto. Qual è la paura di quando si è in un luogo molto alto che non si possa più riscendere per un motivo o per l'altro. Non mi dico altro perché insomma farei troppo spoiler, ma è davvero fatto bene e da quanto ho capito è stato molto complicato girarlo questo film e devo dire che mi è piaciuto e mi ha fatto venire un bel po' di ansia. Fall. Fatemi sapere cosa ne pensate dei titoli che vi ho elencato, se ve ne vengono in mente altri scriveteli nei commenti, anche per gli altri ragazzi che ci seguono iscrivetevi al nostro canale YouTube Ciac e Azione e attivate la campanellina per restare aggiornati su tutte le news che riguardano il mondo del cinema e delle serie tv. Vi consiglio di seguirci su Facebook, sulla nostra pagina Facebook Ciac e Azione film e serie tv, nonché sulla nostra pagina Instagram dove tutti i giorni pubblichiamo news, approfondimenti, consigli e raccontiamo storie che riguardano il meraviglioso mondo del cinema. Io vi do appuntamento al prossimo video.